Ciao a tutti ragazzi, io sono Phantom e benvenuti sul mio canale e benvenuti in una nuova video guida di Fallout 76, video guida velocissima. In questo video vi farò vedere come ottenere la vecchia testa di Polly, ovvero la sua testa, di questa Saultron. Per ottenerla dovrete andare al Wayward dopo aver completato tutte le missioni e parlare con Polly. Dopo aver parlato con Polly lei ci darà la sua vecchia testa, in quanto se vi ricordate nelle missioni lei perdeva tutto il corpo, dovevamo ritrovare il corpo e in pratica mettevamo la sua testa dentro una cosa di liquore e quindi questa è la sua vecchia testa. È un elmo da Saultron unico che ha la scritta Polly Born to Kill di Etromisa, una cosa del genere. Adesso ve lo faccio vedere nel dettaglio. Quindi davvero molto semplice da ottenere. Fate le missioni nel Wayward, tornate al Wayward, parlate con Polly e otterrete il suo elmo. Come ogni elmo da Saultron, quando avremo l'arma equipaggiata sarà chiuso e invece quando avremo l'arma riposta si aprirà. Possiamo baggarlo e togliere l'elmo per poi rimetterlo per tenerlo sempre chiuso. Io lo tengo così personalmente perché aperto fa schifo a mio parere. Quindi ragazzi il video guida termina qui, spero vi sia piaciuto, vi sia stato utile. Vi ricordo di iscrivervi al canale e attivate la campanellina per nuove guide e noi ci vediamo a un prossimo video. Grazie ragazzi, bella.